ciao oggi faremo le linguine con le vongole abbiamo messo l'acqua sul fuoco tendeva a far bollire per la pasta e poi nella padella abbiamo messo un po di olio e poi ci butteremo sopra le vongole in modo tale che si aprano tutte e se volete potete aggiungere anche un po di aglio like iscrivetevi e condividete il video con i vostri amici l'olio boulet è bollente buttiamo le vongole dopo qualche minuto aggiungiamo un po di semolo l'acqua bolle adesso andremo ad aprire gli spalletti linguine si infatti non sono spaghetti ma linguine mi raccomando non spezzatele come fanno gli americani scoliamo l'acqua scoliamo la pasta facciamo due dili d'olio e aggiungiamo il pezzetto saltiamo qualche minuto a fuoco di pace e impiattiamo impiattiamo e buon appetito adesso non mi mando a saldare like iscrivetevi e con il video con i vostri amici perché questo è un impiattamento a me in realtà piace questo tanto vongole quindi questa è la mia reazione buon appetito alla prossima ricetta ciao 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 ciao